Una bella interessante iniziativa che per la ventesima volta ospita la città di Salerno, un'iniziativa importante, una vera e propria eccellente vetrina per la filiera matrimoniale che ci consente di caratterizzare Salerno anche per questa nicchia di turismo che è emergente, che è in crescita in tutti i paesi d'Europa e soprattutto in America e nei paesi esteri. In qualche modo Salerno si candida ad essere sempre più una destinazione appetita per i matrimoni, per la celebrazione dei matrimoni religiosi ma anche civili e da questo punto di vista l'amministrazione De Luca ha voluto fortemente investire in questa direzione creando delle opportunità anche suggestive mettendo a disposizione sia sale che ville e parchi comunali per la celebrazione di matrimoni nella nostra città. Sono convinto che dati i numeri riusciremo ad avere un ulteriore successo quest'anno perché abbiamo oltre 100 espositori, ovviamente di 25 settori merceologici che girano intorno a questa filiera dei matrimoni. Credo che davvero ci sia da guardare con speranza al futuro e di essere orgogliosi di una città e anche di una capacità dei nostri operatori di guardare avanti e di rispondere alla crisi attraverso investimenti e attraverso anche il dinamismo che mettono in campo per far sì che gli eventi nella nostra città abbiano sempre più successo. Salve, buongiorno, rappresento MSC Crociere che ancora una volta è partena di questa notevole iniziativa. Come MSC Crociere siamo veramente orgogliosi di partecipare ancora una volta in quanto i risultati della manifestazione sono sempre crescenti e danno lustro sia alla città di Salerno. Grazie a tutti. La nostra disposizione, tutta la nostra esperienza, la nostra, come dire, il nostro entusiasmo per far sì che anche Salerno possa medagliare nel suo globale, nel momento felistico, la nostra presentazione, la nostra presentazione. Dobbiamo dire grazie anche a loro perché sono degli investimenti importanti che si fanno e poi, ripeto, il fatto di...